Gentili telespettatori, buona giornata. L'ennesima giravolta del Movimento 5 Stelle. Ora lodano il ponte sullo stretto. Cancellieri del Movimento 5 Stelle dice servirà per lo sviluppo dell'Italia, ma nel 2012 diceva non serve a nulla. E Grillo scriveva è una presa in giro, serve solo al PD, no? E a certe organizzazioni. Beh, a volte si cambia idea, no? Ecco, io sono sempre stato favorevole al ponte sullo stretto fin dai tempi di Berlusconi, quando aveva dato l'avvio a questo ponte, poi è cheruto il governo e quelli arrivati dopo hanno fermato tutto. Giustamente voi come sapete la sinistra deve dire l'opposto di quello che dice la destra. Se la destra inizia un ponte, la sinistra lo ferma. Ecco. Dice perché? E solo perché lo doveva fare la destra. Ecco, questo è un po' l'infantilismo che c'è in politica italiana. Bisogna per forza dire l'opposto di un altro capo politico, dell'aschieramento diverso. E così arriva l'ennesima giravolta del Movimento 5 Stelle. Il sottosegretario all'infrastruttura e 5 Stelle, intervistato dalla stampa, dice segnerà la ripartenza dell'Italia. Che poi è vero, è giusto. Segnerà la ripartenza dell'Italia. Decine di migliaia di posti di lavoro. Deve essere fatto questo ponte sullo stretto. Il prima possibile porterà una montagna di lavoro, un'opera bellissima. Sarà una delle meraviglie del mondo, il ponte sullo stretto. Porterà la distanza di tempo tra la Sicilia e la Calabria a tre minuti, non a un'ora e mezza al traghetto, al biglietto. Tre minuti di macchina. Si potrà andare da una parte all'altra in tre minuti. Veloce lo spostamento di merci, di persone. E vabbè, è super positivo anche perché la gran parte viene pagato dall'Europa. È chiaro, stufatto, viene pagato dall'Europa la gran parte. Beh, insomma, l'ex presidente Conte, nella sua nuova veste, ha chiesto ai Cinque Stelle di non affrontare questo tema con superficialità. Il ponte, dice, finalmente garantirebbe la continuità territoriale, ma non solo. L'Italia, da centro geografico del Mediterraneo, si trasforma in centro commerciale, diventando una piattaforma logistica di collegamento con il mercato nord-europeo e con il continente africano. Io credo che avrò poche occasioni di andare ormai in Sicilia. Ci sono state parecchie volte. Credo che adesso, se dovessero fare il ponte, da Roma prenderò la macchina e andrò fino a Reggio Calabria solo per vedere il ponte. Quando sarà fatto? Chissà se farò in tempo a vederlo. Arrivederci a tutti.